ciao a tutti oggi parliamo di vodafone smart 2 nello specifico vi faremo vedere come è possibile giocare con le cover e comporre abbinamenti di colori simpatici e divertenti qui abbiamo delle cover campione come vedete sono costituite da due parti una parte interna una cornice in modo tale che sia possibile giocare appunto mischiando le le cover possono essere sia in opaco che con un colore più più lucido dunque proviamo a fare un abbinamento è molto semplice esercitare una pressione in questo particolare scalino e la cover si toglie quindi togliamo la cornice e togliamo la parte centrale io andrei con un interno bianco e cornice color ruggine basterà a me appoggiarla sulla parte inferiore del terminale e con un semplice movimento e tutto sarà posto è tutto quindi per le nostre cover nostro smart 2 ci vediamo al prossimo video